un caro benvenuto a tutti ragazzi e soprattutto benvenuti in questo nuovissimo contenuto targato alonso gray fox come state tutto bene spero bene oggi ragazzi ritorna di prepotenza come ogni martedì la rubrica del gol della settimana siamo arrivati ragazzi alla nona settimana di contest ma è la decima in realtà con gli amici di i football and friends ragazzi che si occupano di questo contest e io me medesimo l'onso gray fox ho il compito di commentarlo ogni settimana ricordo a tutti che il contest è completamente gratuito per partecipare vi basta iscrivervi al gruppo i football and friends che trovate qua sotto in descrizione qua a fianco a destra a sinistra e non lo so decidere dopo il simboletto logo dei football and friends che ci accompagna da sempre in questa rubrica dove luca gallo e ricchi conciletto vanno a giudicare il gol più bello della settimana gli admin di football and friends aspettano solo voi e allora che cosa aspettate voi iscrivetevi sulla pagina facebook anzi sul gruppo facebook e partecipate numerosissimi pubblicando il vostro gol seguito dall'hashtag il gol della settimana prima di andare avanti ragazzi come al solito però vi invito numerosissimi anche ad iscrivervi sul mio canale lasciare un bel mi piace un bel nome mi piace commentatelo però questo video commentatelo con l'hashtag goal goal ragazzi tanti come voglio tantissimi commenti per questo video e non mi diri un gol oltre andiamo a vedere che ha vinto questa settimana e soprattutto andiamo a vedere un bellissimo gol perché di gol banali nella rubrica il gol della settimana di football and friends non ce ne sono mai vi ricordo anche oltre che iscrivervi e commentare di condividere il più possibile il video di far iscrivere il più gente possibile al canale il più grande supporto che potete dare e di attivare la campanella per tutti i prossimi stavolta ragazzi è reggio piccena che ci indica il tempo e non per caso che con un bellissimo cross sensazionale fa questo gol meraviglioso al volo di tacco con l'ancora più meraviglioso raffaele hao che gol spettacolare grande reggio grande le hao allora reggio che sorpresa che bel gol con le hao uno anzi il mio giocatore preferito di questa nuova generazione complimenti reggio che entra di diritto nel hall of fame dei ragazzi che hanno vinto il gol della settimana e tu pensi di poter fare di meglio dimostralo iscrivendoti alla pagina barra gruppo facebook di football and friends mi raccomando non mancare di partecipare a questo contest invertentissimo che permette anche di creare tante nuove amicizie quindi mi raccomando iscriviti caloriosissimamente a questo gruppo e ancora tantissimi complimenti al nostro reggio prima di salutarvi come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un bel mi piace un bel no mi piace ma non fate perché luca gallo è peggio di ricchi cioè martella a manetta commentare lasciare anche una segnetta nella campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno condividere il più possibile far iscrivere il più gente possibile vi ricordo anche che mi trovate ogni pomeriggio in live sul canale viola che anche questo lo trovate qua sotto in descrizione passate se avete bisogno di dritte se volete divertirvi con il magico mondo di e football e vi ricordo anche ragazzi questo è un appello che vi faccio di passare sul mio profilo twitter ed iscrivervi è il più grande supporto che possiate dare se volete che i rapporti con le community estere e con konami migliorino abbiamo assolutamente necessità di volare su questo social forse un po dimenticato da un in italia ma veramente tanto importante al di fuori dello stivale quindi ragazzi vi saluto alla mia solita maniera vi mando un grande bacio un grande abbraccio un grosso braccio e ci vediamo al prossimo contenuto targato a losso greyfox bello